Bene, buongiorno a tutti, benvenuti. Io sono Enzo Nastati, sono il presidente dell'Istituto Eureka, che oggi ha il piacere di organizzare questo convegno, per noi molto importante, significativo, perché è il frutto di tanti anni di lavoro e quando dico tanti intendo tanti, intendo dire che le prime ricerche sono iniziate negli anni Ottanta e adesso dopo tanto peregrinare qualcosa e comincia ad affiorare. Noi ci siamo sempre mossi in modo autonomo, come dire, autofinanziato e ringrazio come negli ultimi anni si sono sempre più avvicinati membri dell'Università di Udine e anche di altre facoltà che hanno avuto anche fiducia nel nostro lavoro, fiducia da verificare con i numeri, con le tabelle, con i grafici e oggi insieme a loro presentiamo questi nostri primi lavori. Ce ne sono molti altri, stiamo lavorando su circa 15 progetti di ricerca, questi sono i primi che incominciano ad avere dei dati significativi su cui si può parlare. Ringrazio e chiedo scusa per evitare errori, lo farò in ordine alfabetico, senza i titoli, nessuno si offenderà, ma non so chi sono i dottori, gli ingegneri, le casalinghe, per cui senza offesa per nessuno. Ringrazio Ezio Puzzini, vice sindaco, che adesso prenderà la parola, Costantino Cattivello, Lidia Vicentini dell'Ersa, che io non conosco personalmente, ma solo di nome da tanti e tanti anni sento parlare di questo, chiedo scusa, Cattivello, che è super esperto di Ortive ed è la prima volta che ci vediamo. Poi ringrazio Marchi Vecchi, della Ita Isis, che non so esattamente, sono ignorante su questo, di Gorizia, gradisca Gorizia, ecco, quasi colleghi allora. Poi, invece, questo devo dirlo, il professor Claudio Giulivo dell'Università di Padova, che è un grande enore, perché i nostri referenti si sono alzati in piedi e hanno salutato il professor Giulivo per quello che porta. Poi abbiamo Leopoldo Rizzi, di Padova, un pedigree infinito, Comedatore, grande ufficiale, ambasciatore, c'è di tutto, notaio, avvocato e ci segue da un anno, segue lo sviluppo del nostro lavoro per portarlo a livello internazionale. Poi c'è Teresa Totis, del Comune di Fagagna, benvenuta, qualche d'uno vicino. Una volta ho ricevuto un premio dal Presidente regionale per un progetto che ho fatto in India, ho ricevuto questo riconoscimento, questo premio, e poi ti fanno dire due parole, e io ho detto solo due parole mie. Non capisco perché devo andare a lavorare in India e non riesco a lavorare in regione, quindi sono contento che ci sia qualche d'uno di Fagagna perché alle volte Nemo, profeta in patria, è proprio vero. Bene, non conosco... Ah, ecco, allora avevo il dubbio, grazie, grazie di essere venuto. Ci manca l'Onorevole che non è venuto, mi sembra. Bene, Commissione Agricoltura, e dovrebbe esserci l'Onorevole Giorgio Zanin. No, però è sempre un onore. Posso sapere chi... L'AproBio. Ah, l'AproBio. Anche quella. Anche quella. Vincano, fissore di Basiliano. Ancora più vicino, benissimo, ho vinto Basiliano rispetto a Fagagna, grazie. Benissimo. Allora, ringrazio tutti poi i partecipanti perché con tanti ci conosciamo, seguono il nostro lavoro da anni e è una bella festa. Vi informo che la cosa più importante è che c'è un buffet eccezionale, però questo non lo posso dire, ecco, non si dice. Bene, non l'ho detto. Allora, come prima cosa per stare nel programma, ho il piacere di trasmettere il saluto, augurare, dell'Académie Privé des Sciences e del fondo di dotazione Madeleine e Roland Comte, che non hanno potuto venire, molto dispiaciuti, hanno mandato un saluto che adesso leggeremo, che si occupa di ricerca avanzata in omeopatia. Anche qui sono tutti i nomi che sarebbe da dire tante cose. Sono arrivati per via scientifica a dimostrare l'azione dell'omeopatia, solo che hanno sviluppato una matematica così elevata che nessuno riesce, o pochissimi riescono a seguirla. Ma sono arrivati per via scientifica a dimostrare l'effetto delle alte diluizioni. Penso, se non lo anticipo, che anche noi lavoriamo con l'omeopatia, una popatia modificata per il regno vegetale, quindi una medicina di messaggio, trasmettiamo questi messaggi di stimolo alle piante e oggi parleremo di acqua e di siccità. Di questa Académie Privé, che adesso c'è il saluto, ho ricevuto l'onore, è stato un grande onore, siamo stati nominati membro del comitato scientifico. Quindi sempre per la serie Nemo Profeta in Patria. È più facile essere riconosciuti in Francia, vedremo Basiliano, vedremo Fagagna. No, a me piace un po' scherzare, sono vestito da uomo serio, ma sono, come dire, un po' più allegro. Perché la vita è bella, la vita è bella e va vissuta con gioia, se no che cosa vivi? Quindi la gioia ce l'abbiamo noi, non è che ti arriva da fuori, è l'ora di mettercela alla gioia. Quindi tutti quanti un bel sorriso di gioia, che vi vedo? Sì, benissimo. Saluto. Speaker, ufficiale. Signore e signori, caro Professor Nastatti, al nome del fondo di dotazione Madeleine e Roland Comte e anche dell'Académie Privé des Sciences, Accademia Privata delle Scienze, ho il piacere e l'onore di rivolgere un breve e caloroso saluto per il vostro interessante evento scientifico. I lavori del Professor Nastatti e della sua equip sono stati selezionati ed hanno ricevuto il primo posto del premio Yves Lasn, attribuito dal fondo alle personalità che si sono distinte per il loro importante contributo al progresso della scienza dell'omeopatia. Noi siamo impressionati dai risultati ottenuti dai lavori del Professor Nastatti ed abbiamo potuto constatare in essi una conferma della teoria delle alte diluizioni sviluppata da Roland Comte e dalla sua equip negli anni Ottanta dello scorso secolo e pubblicate agli inizi degli anni Novanta. In questo modo la medicina omeopatica viene confermata come una medicina di tipo nucleare nella quale le transazioni si producono a livello di meccanica quantica, risultato dell'iniezione di energia nel processo di diluizione e successivamente osservate e provate dal cambiamento di irraggiamento beta dell'essere vivente. L'apporto dell'omeopatia in agricoltura è di grande importanza per il futuro dell'umanità. Di conseguenza i lavori del Professor Nastatti e della sua equip rappresentano una delle chiavi alla base per rispondere alla sfida di una agroeconomia sana e duratura. Desidero augurarvi una eccellente continuazione del vostro evento affinché si possa porre al servizio dell'umanità. Hans-Georg Andras, Presidente. Allora, il saluto del Vice-Sindaco, prego, l'Ing. Bozzini. Grazie dell'invito. Buongiorno a tutti. Porto il saluto dell'amministrazione comunale di Codroipo e sono felice di essere qui a rappresentarla perché attraverso Graziano in questi ultimi 5-6 anni ho conosciuto un po' che cosa stanno facendo qui e che cosa lui propina in giro per i comuni. E questo mi ha fatto conoscere e spero che voi possiate aumentare e soprattutto aumentare le persone che credono nella vostra filosofia e nel vostro modo di operare. Io posso portare un piccolo esempio. Nel 78-79 ero assessore a Varmo e chi si ricorda in quei periodi aveva iniziato la cultura del grano turco per aumentare la produzione toglievano le siepi, toglievano gli alve, toglievano tutto. Ogni tanto si trovava qualche pianta anche in mezzo alla strada, se vi ricordate, così per protesta. Sono andato a parlare con un professore universitario di agricoltura, non mi ricordo come si chiama, e lui mi ha detto che era estremamente pericoloso questo perché togliendo le siepi si rompeva l'equilibrio naturale fra uccelli e insetti per cui per uccidere gli insetti bisognava aumentare i prodotti chimici. Seconda cosa, non utilizzando l'etame si utilizzava il prodotto chimico e quindi ogni anno, ripeto come ha detto lui, non so se sono cambiati i prodotti chimici, si impoveriva la terra e ogni anno bisognava aumentare il prodotto chimico. Quindi questo io non ho potuto fare niente perché quella volta, e penso anche adesso, gli agricoltori cercano giustamente o no fare il loro interesse, per cui, diciamo, è rimasto lì e non ho potuto fare niente, nemmeno da assessore perché l'ho provato a fare. Quindi io spero che questo possa cambiare e che si possa cambiare tipo agricoltura, in modo da tenere un'agricoltura diversa. Io auguro, io purtroppo devo andare via, e quindi auguro a tutti voi un buon convegno e spero che sia utile per tutti voi. Grazie e grazie per l'invito. Allora, adesso la parola per un breve, perché lo conosciamo, il consulente collaboratore del Comune per le politiche ambientali, Graziano Gansit, che l'ho visto prima. Ah, eccolo lì. No, no, stai lì. Il vice sindaco, di cui mi onora l'amicizia, ha tratteggiato un po' alla svelta, diciamo, quello che è stato il passaggio dagli anni 60 ad oggi. Bene, noi non ci poniamo in antitoli, cerchiamo di dare una risposta al mondo agricolo, ed è quello che sto anche cercando di fare col Comune, ma anche con i comuni vicini. Ovunque mi chiamano, in questo momento anche di emergenze, di biomasse, di problemi, diciamo, di aridificazione dei suoli, cerco di portare un messaggio di speranza che viene dall'esperienza che ho avuto con Enzo, con questo modello, diciamo, di agricoltura, e soprattutto con le sue applicazioni pratiche. Il futuro è qui. Quando vado fuori anche a discutere di OGM mi sento come in una corazza, perché vedo e sento la forza di questo metodo che ha, al di là di tutto, la possibilità di darci la libertà. Perché se un'agricoltura non è libera, non è libero neanche quel popolo. Di conseguenza, l'appello che rivolgo anche a tutti gli amministratori pubblici è di conseguire la prima libertà del loro popolo, che è la sovranità alimentare. È quello che come messaggio cerco di portarlo. A Codroipo, come cittadino di Codroipo, opero e ho pieno convincimento anche con il vice sindaco di andare su questa strada. Lui come ingegnere, ma io come agricoltore speriamo di farcela. E grazie di quello che è successo qui a Codroipo e a Enzo per il lavoro che ha fatto. Bene, adesso possiamo incominciare a metterci un po' più di carne sul fuoco. Cominceremo con la prima prova. Faremo vedere due prove. Una riguarda la resistenza e la siccità indotta nelle piante di peperone grazie a un trattamento che noi facciamo sul seme. E il secondo sarà una prova che invece riguarda più la qualità, quindi la riduzione di nitrati che c'è nel nostro metodo di coltivazione rispetto ad altri metodi. Tutti e due sono stati seguiti dall'università. Anzi, quella dei nitrati è dell'università presso di noi mentre quella della siccità è da noi con l'università che ci ha gentilmente, molto gentilmente accompagnato. Anche per dare più scientificità al nostro lavoro. Una parola ancora, solo una parola sul metodo per chi non conosce. Il nostro metodo in realtà è nato con Chernobyl. Quando è accaduto Chernobyl il sottoscritto che abitava a Trieste e se ne è presa tante in testa di radioattività ha deciso, diciamo la faccio corta, ho preso dei funghi porcini e ho fatto un prodotto omeopatico che non sapevo fare. Ho inventato, i libri li avevo in casa. Ho fatto questo prodotto, l'ho spruzzato sulle piante e era sceso il 40% di cesio. Bene, da quella volta ho deciso che la mia vita sarebbe stata in questa direzione. Da allora abbiamo lavorato molto sul disinquinamento, cadmio, piombo, zinco, arsenico, atrazina. Abbiamo lavorato molto, sempre fuori regione, sempre anche fuori Italia, soprattutto Slovenia, Croazia. sempre, come dire, il compasso è sempre largo, purtroppo, in Olanda, gasolio tolto nel terreno in Olanda, però di andare in Olanda. Benissimo. E queste sono state le nostre esperienze e da lì abbiamo iniziato a individuare nell'omeopatia questa, diciamo, questa tecnica che permette di trasmettere un messaggio alle piante o al seme. Quindi noi fondamentalmente, nella maggior parte dei casi, facciamo dei trattamenti sul seme e il seme, quando c'è il suo risveglio di vita, il primo messaggio che riceve, come si dice, sapete per le anatre che il primo che vedono lo decidono che ha la mamma, no? E poi lo seguono. Questo imprinting, si dice, parte con questa impronta. Nel nostro caso vedremo di aver risvegliato nella pianta il gene della resistenza alla siccità. Gene che, ad esempio, il cactus, per dirne uno, attiva in modo meraviglioso, ma l'insalata no. Quello che non si sa, ed è anticipo solo un momentino, che le piante normalmente esprimono solo il 30-40% del loro DNA. Come dire, hanno un 60-70% di geni, di capacità, di talenti presenti ma non espresse. Noi con l'omeopatia non facciamo altro che andare a stimolare la manifestazione di queste qualità. Quindi in terapia un intervento dolce perché non c'è forzatura, poi se la pianta vuole rispondere, risponde. se non vuole rispondere si riprova e oppure abbiamo sbagliato il prodotto oppure abbiamo sbagliato perché il seme è troppo sordo. Nelle prove che vedrete abbiamo usato un ibrido, un ibrido già un seme sordo, quindi siamo partiti in svantaggio e proprio per vedere cosa riusciamo a fare nelle condizioni dell'agricoltura normale. Non sono partito da un seme biologico perché il biologico è del 3-4% del mercato nazionale. Io devo andare dove è la realtà. La realtà in agricoltura è ibrido perché è così. Quindi siamo partiti svantaggiati e abbiamo fatto questo lavoro di risvegliare queste qualità. Il risultato lo vedrete e allora questa prova è seguita prima dalla nostra Elena Tosoratti che è come dire il braccio scientifico della nostra organizzazione io sono quello che ha idee mettiamola così e dalla dottoressa Luisa Dallacosta che con l'università di Agraria ci ha seguito e ci ha dato ci ha permesso di completare il lavoro. Inizierà la nostra Elena e poi Luisa andrà come ha detto lei con arguzia e dolcezza ha detto il lavoro l'avete fatto voi noi abbiamo solo temperato la matita finale vedi che ha girato questa frase quindi ci ha seguito in questo. Elena prego Buongiorno a tutti grazie di essere qua e di avere per me la possibilità di condividere questa questa importante collaborazione questo questo lavoro fatto assieme che è stato così interessante e stimolante e questo lavoro come già Enzo ha anticipato e introdotto si è occupato di vedere se è possibile stimolare nelle piante la loro capacità di vivere in condizioni ambientali di scarsità d'acqua prego e in questo lavoro siamo partiti pensando a due punti fondamentali che di fatto sono quelli più abbiamo pensato più gestibili quindi la materia prima il seme che abbiamo a disposizione e l'acqua l'acqua anche anche fosse in piccola quantità o ridotta quantità quello è l'obiettivo quello che è l'obiettivo di tutto il lavoro e quindi ci siamo chiesti siamo partiti da questa conoscenza il dna delle piante ogni pianta del suo dna manifesta solamente una piccola parte il resto che viene chiamato nel gergo un dna ridondante cosa fa che cosa è nascosto dentro all'interno di questo tesoro perché il dna è un tesoro qui cosa c'è nascosto qui ci sono le possibilità di adattamento e di possibile resistenza delle piante alle varie condizioni ambientali e quindi tutto questo che è il nostro lavoro ormai da anni è stato quello in questo caso di restrizione d'acqua è possibile stimolare questo dna silente e per il secondo punto l'acqua siamo partiti dalla domanda bene ok noi ne abbiamo poca ci poniamo in una condizione svantaggiata di poca acqua e le zone del mondo con poca acqua ce ne sono tante ma il problema è solo un problema di qualità o come uomini uomini ingegnosi come uomini ingegnosi che cercano di aiutare forse c'è anche l'aspetto qualità dell'acqua perché anche noi quando andiamo a bere da una fonte di montagna diciamo come buona quest'acqua non andremo a bere da una pozzangara c'è qualcuno che è costretto però la qualità molto banalmente così mi rendo conto che l'esempio è un po' così forte ma la qualità è diversa e quindi ci siamo chiesti l'acqua il rigua che scorre per centinaia di metri a volte anche chilometri in tubazioni di regazione ha la stessa qualità e quindi ci siamo chiesti è possibile trovare delle soluzioni qualcosa per agire su questo aspetto la qualità dell'acqua e qui a supporto di tutto questo lavoro c'è la storia il contributo dell'istituto Eureka in questi anni come già Enzo ha anticipato lo sviluppo di una omeopatia per il mondo vegetale che possa portare questo prodotto omeopatico possa portare un messaggio alla pianta in particolare al seme per risvegliare quelle capacità che sono nascoste come in quel baule in quella fortezza e in particolare per questo questa tematica della siccità del coltivare in ambiente arido o con scassità d'acqua è stato sviluppato un prodotto che di trattamento sul seme che si chiama S06 questo è il codice di questo prodotto e lo anticipo come nome in modo che familiarizziamo con questo termine che vuole stimolare proprio nel seme risvegliare nel seme questa capacità di adattarsi a condizioni idriche ridotte e per l'acqua l'istituto Eureka nel tempo ha studiato si è occupata anche di un'importante ricerca di Theodor Schwenke era un ingegnere che si è occupato ha dedicato gran parte della vita alla dinamica dei fluidi e da tutto questo suo lavoro in cui si è occupato del movimento dell'acqua della forma nel movimento dell'acqua è stato sviluppato un dispositivo che qui vedete nelle foto che per la forma per il movimento che imprime all'acqua è in grado di rivitalizzare l'acqua quindi anche l'acqua di irrigazione avanti e a questo punto con queste diciamo due valigie un'omeopatia per l'agricoltura e un dispositivo per cercare di rivitalizzare l'acqua di irrigazione ci siamo così trovati con l'università di Udine per cercare di portare robustezza verificare tutto questo in maniera scientifica e quindi abbiamo pensato di organizzare delle prove sperimentali che appunto utilizzando un seme di per sé un tantino sordo andassero a vedere gli effetti sul seme quindi sulla capacità della pianta di crescere e svilupparsi del prodotto omeopatico S06 per stimolare la resistenza alla siccità e il tipo di acqua quindi utilizzando un'acqua vitalizzata utilizzando il vitalizzatore dell'acqua ma sempre confrontando il testimone quindi un seme non trattato o un'acqua tal quale normale come viene su pescata e una linea di piante trattate quindi il seme trattato col bagno seme S06 e irrigate con acqua vitalizzata il tutto determinando stabilendo una serie di parcelle in cui l'adacquamento fosse dal 100% e poi differenziato in settori a volume ridotto 75% del volume di adacquamento e 50% del volume di adacquamento rispetto al riferimento avanti la prima prova che abbiamo che qui presentiamo è proprio quella in cui abbiamo utilizzato solo acqua tal quale ma abbiamo voluto trattare il seme e quindi questo per cercare di vedere qual è il contributo effettivamente del bagno seme sulla capacità di risvegliare la resistenza alle condizioni idriche difficili e queste sono le immagini di questa sperimentazione qui i semi sono stati piantati in alveolo sono stati sono stati fatti crescere fino al momento del trapianto in serra fino a quel momento e fino a quando le piantine hanno attecchito in maniera adeguata in serra l'adacquamento è stato in libera a un certo punto è stata attivata la differenziazione dell'irrigazione quindi le parcelle del 100% hanno ricevuto quel volume stabilito e poi tutte le altre quelle del 75% e del 50% hanno avuto la restrizione idrica ogni volta che è stata effettuata la sessione di irrigazione avanti e qui questi sono le foto di quello che è avvenuto in serra nel corso della coltivazione in tunnel di queste piante di peperone avanti questo illustra il sistema di irrigazione che ha utilizzato dei tubi di irrigazione con dei fori a distanza di 33 cm e sono stati questi tubi allestiti con dei rubinetti per poter interrompere l'irrigazione nelle parcelle a ridotto ad acquamento ecco questo è il primo grafico il grafico dei risultati di questa prima prova in cui vediamo le colonnine blu rappresentano la produzione per metro quadro delle piante di testimone di peperone testimone quindi di piante il cui seme non è stato trattato con il bagnoseme le colonnine rosse rappresentano la produzione delle piante derivanti da seme trattato con bagnoseme ricordo in questa prova tutte tutte le piante testimone e trattato sono state irrigate con acqua tal quale cosa cosa si vede sostanzialmente si vede che nel testimone la produttività tende a crescere passando dal 100% al 50% di adacquamento e questo probabilmente perché c'è stato un sovra adacquamento nelle parcelle 100% e quindi questo ha determinato una lisciviazione degli alimenti nutritivi presenti nel terreno d'altra parte guardando le colonine rosse lo stacco rispetto alle colonine azzurre questo indica che i semi trattati con S06 mantengono una produttività sempre superiore qualsiasi sia il livello di irrigazione utilizzato e questo stacco è valutabile all'incirca tra il 20 e il 30% quindi questi valori suggeriscono che la capacità del prodotto bagno-seme S06 è effettivamente quella di risvegliare il DNA silente di questi semi avanti in altri termini il bagno-seme S06 come rappresentato in questa tabella è riuscito a determinare un incremento rispetto al testimone di circa il 30% in termini di produzione nelle piante irrigate col 100% d'acqua ha determinato un incremento del 17% nel prodotto delle piante irrigate col 75% di acqua e un incremento del 29% nella produzione delle piante irrigate solo con metà quantità d'acqua e questo effetto è particolarmente significativo per quelle piante per quel settore irrigato con solo il 50% d'acqua perché l'incremento nella produzione è stato del 29% avanti e quindi la seconda prova ha voluto inserire una seconda variabile la variabile acqua qualità dell'acqua e quindi tutta l'organizzazione della prova è stata mantenuta l'unica cosa che è stata variata è l'introduzione del vitalizzatore dell'acqua di irrigazione sul sistema di irrigazione tutto il resto l'impianto è stato mantenuto uguale avanti anche qui questo a testimonianza di questa seconda prova della coltivazione in tunnel di queste piante di peperone sia i testimoni che i trattati con S06 entrambi nelle varie settori di irrigazione bagnati con acqua vitalizzata avanti e questi sono i risultati di questa seconda prova i risultati sono ancora più interessanti in quanto si vede che nel testimone la produzione è risultata decrescente man mano che si passava dal 100% di irrigazione al 75% e al 50% con una perdita nel primo scalino cioè dal passaggio dall'irrigato 100% al passaggio dell'irrigato 75% con una perdita di circa il 16% e nel secondo scalino cioè dal 75% al 50% questo scalino è di un ulteriore 30% di perdita nella produzione parallelamente le piante trattate con bagno seme S06 manifestano valori sempre superiori rispetto agli omologhi non trattati per tutti i regimi di irrigazione quindi l'effetto antissicità di questo trattamento S06 si rende più manifesto sempre più manifesto man mano che impongo una restrizione d'acqua a queste piante avanti e quindi in questa tabella questa tabella ci vuole dire che man mano che procede la restrizione dell'adacquamento la forbice tra il seme non trattato e il seme trattato in termini di produzione aumenta incrementa in maniera vistosa passiamo da un 2% nell'adacquato con 100% d'acqua a un 78% nelle piante adacquate solo con il 50% d'acqua avanti e qui abbiamo voluto mettere insieme le colonnine dei risultati delle due prove e in questa visione simultanea cosa possiamo cogliere come messaggio questi valori confermano l'efficacia del prodotto bagno seme S06 perché di fatto le colonnine rosse che sono quelle dei trattati e le colonnine verdi sono sempre quelle dei trattati solo della seconda prova si staccano sempre dalle colonnine dei testimoni però questa visione così d'insieme suggerisce che è opportuno ridurre l'adacquamento del testimone cioè di quello che è stato il 100% perché così è possibile aumentare l'efficacia d'uso d'acqua quindi i chili di produzione rispetto ai metri cubi di acqua effettivamente distribuita sul terreno e consigliano anche un'altra cosa che l'entità di questa riduzione del del riferimento testimone riferimento volume d'acqua sia almeno del 20% quindi nell'ipotesi di continuare queste prove ipotizziamo di partire con far diventare 100% come riferimento il nostro 75% di queste due prove di questi anni e questo permetterebbe anche di evidenziare ed esaltare questi effetti produttivi del bagno sema S06 e anche del vitalizzatore dell'acqua inoltre incoraggiano a organizzare in maniera sistematica ulteriori prove sperimentali in modo da aggiungere con la ripetitività delle prove dei risultati una significatività statistica a questi preliminari risultati che abbiamo ottenuto avanti quindi concludendo velocissimo sono stata le ho persi tutti no spero di no comunque questi punti principali questi due punti da cui siamo partiti quindi l'azione sul seme e l'azione sull'acqua che conclusioni possiamo trarre che effettivamente il prodotto omeopatico S06 in questo caso che vuole andare a stimolare la resistenza la capacità di resistere in condizioni di restrizione d'acqua effettivamente ha un'efficacia il suo contributo è sostanzialmente omogeneo di circa il 20% su tutti i livelli di irrigazione è indipendente quindi dal livello di irrigazione per quanto riguarda il dispositivo che vorrebbe vuole vitalizzare vuole dare nuova vitalità all'acqua nelle tubazioni di irrigazione questi risultati suggeriscono che effettivamente viene potenziata la capacità bagnante dell'acqua irrigua questa risposta della pianta a un'acqua così vitalizzata c'è esiste e questi dati suggeriscono che l'azione prodotto omeopatico acqua vitalizzata possano agire in sinergia e quindi questo è un risultato molto incoraggiante avanti d'altra parte a questo punto è necessario comunque per il futuro continuare in questa in questo lavoro di sperimentazione perché è necessario proprio raggiungere una significatività statistica a tutto questo le ulteriori prove sperimentali dovrebbero indagare ancora verificare ancora i risultati gli effetti del bagno seme su piante da seme non trattato o trattato e bagnate o con acqua normale o con acqua vitalizzata e a questo punto allora si apre la porta alla possibilità di veramente diffondere queste possibilità di realizzare queste prove sperimentali anche a chi avesse desiderio di contribuire a questo lavoro e a questa linea di ricerca magari persone dell'Interland friulano che avessero desiderio di contribuire e collaborare a tutto questo io qua mi fermo questo sostanzialmente se tu Luiso vuoi aggiungere qualcosa o tu vuole grazie grazie sostanzialmente abbiamo visto i risultati che sono stati ottenuti in questi due esperimenti questi due esperimenti hanno il grosso limite ancora di non avere repliche quindi non sappiamo ancora se questo si verificherà anche negli prossimi esperimenti ed è quello che noi vorremmo provare quindi la prossima volta quando organizzeremo l'anno prossimo l'esperimento avremo più appezzamenti più serre coltivate con le medesime trattamenti quindi avremo cento settantacinque cinquanta abbiamo immaginato che poiché il cento aveva tantissima acqua e non produceva necessariamente la proproduzione più alta stabiliremo che il nostro fondo scala sia il settantacinque abbiamo visto che quello che esalta l'efficacia del bagno seme è regimi idrici più bassi quindi partiremo dal settantacinque avremo il cinquanta e anche a decrescere quindi ci sposteremo nella scala di siccità verso valori più alti di siccità e noi speriamo di riuscire ad ottenere risultati così interessanti come sono stati ottenuti in questi due esperimenti grazie bene io direi che possiamo aprire un breve dibattito se ci sono delle domande che volete porre o ai due professionisti che hanno seguito la prova oppure magari in alcune cose ci sarò anch'io se è necessario diciamo tengo a precisare che noi abbiamo elaborato 15 metodi per lavorare nella siccità compreso aumentare la capacità di assorbire l'umidità notturna solo che questo non lo posso fare a Codroipo devo farlo in Sudan in Niger in Burkina Faso capite perché qui non ho le condizioni per poterlo verificare e abbiamo quindi diciamo ennucleato questi due metodi perché erano quelli più facilmente misurabili quantità d'acqua peso volume eccetera eccetera quindi quello che noi proponiamo è molto più ricco e molto più vasto che fa parte di studi portati avanti in tutti questi anni compreso lamentare la formazione dell'humus senza concimazione perché il fatto di concimare con la sostanza organica non parlo di chimico perché è fuori dei miei pensieri ma è uno dei modi per portare vita nel terreno non è detto che sia l'unico qui bisogna essere veramente un po' più ricchi di fantasia le aziende che noi seguiamo sono circa un centinaio di aziende di base non concimano aziende che producono quindi come dire quello che si riserva un po' per il futuro è molto più interessante è molto più ricco però adesso ci fermiamo a queste due prove quindi chi ha piacere di fare delle domande questo è il momento prego senza timori balletta balletta una ne abbiamo grazie è una curiosità tecnica che secondo me però ritengo fondamentale facendo orticoltura credo sia importante sapere i volumi di adattuamento che sono stati utilizzati se potete siamo pronti eccolo certo ma non ci siamo visti prima no è approfondimento che non sai mai come va noi abbiamo preparato una base poi abbiamo tutta la figlieria dietro questi sono i tabellini di Napoleone la vecchia guardia sì questo abbiamo preparato ci siamo preparati per questa domanda per verificare effettivamente cosa quanta acqua abbiamo dato e dai numeri 890 mm nel 100% veramente li abbiamo annegati si potrebbe dire d'altra parte questa la valutazione di quanto volume quanto è questo 100% l'abbiamo pensata e sicuramente nelle prossime come avete già sentito nelle prossime prove modificheremo il tiro è stata pensata perché in base a vari elementi non solo la letteratura di quanto acqua ha bisogno il peperone ma anche considerando il terreno a disposizione qui che è un terreno di quarta classe con grande scolo e poi senza rischiare sì e poi il fatto che queste piante sono state tenute in serra quindi dove le temperature sono molto alte quindi l'acqua che è stata distribuita a queste piante aveva anche una funzione di termoregolazione per queste piante per poterle accompagnare traghettare in tutto il periodo estivo quindi ci rendiamo conto che il quantitativo è veramente importante come ha detto Luisa le prossime prove vorranno partire perlomeno dal 75% e quindi scendere ulteriormente e raggiungere i livelli di seccità diciamo più più importanti per vedere per esaltare quello che è la potenzialità di questi di queste soluzioni il bagno seme e il vitalizzatore dell'acqua bene avanti prego grazie ho alcune questioni da porre da perfetto ignorante di queste cose la prima è che cosa è quest'acqua vitalizzata o rivitalizzata in che cosa si differenzia dall'acqua che trovate normalmente credo che tocchi a me allora il problema dell'acqua è come se andavo stamattina il problema della silice composti della silice nel terreno il 42% del terreno sono composti di silice e in agricoltura si studiano tutti i micro le micro elementi che mancano che non mancano non si studia cosa fa la silice nel terreno se qualche uno ecco così dell'acqua ce n'è talmente tanta che non si studia l'acqua una banalità allora devo frenarmi scusate questo è il freno perché parlare di acqua io parto e non so quando finisco in antico basta vedere gli acquedotti romani oppure Epidauro in Grecia dove c'è quel famoso teatro che cade uno spillo si sente fino in cima là ci sono le linee di come portavano l'acqua ai campi e avevano delle forme particolari i canali per portare l'acqua delle forme particolari che adesso c'è la lavagna se c'è la seconda domanda io anche disegno oppure come facevano i templari in Spagna quando portavano l'acqua per rivitalizzarla nei conventi facevano fare dei percorsi o in Peru come facevano ancora le antiche popolazioni per creare acqua sacra oppure come facevano le Uisi per i misteri di Demetra anche per creare acqua sacra perché noi andiamo in chiesa e troviamo un'acqua sacra allora c'è un'acqua biologica e un'acqua sacra acqua santa si dice questo per il mio punto di vista sono i due idrogeni un idrogeno è portatore dell'acqua biologica diciamo così bios e l'altra parola è zoe parola dimenticata che vuol dire la vita cosmica diffusa in tutto il cielo da cui zodiacos il cerchio di zoe non sarà un caso che zoe vuol dire vita mentre bios noi lo traduciamo come vita ma una traduzione impropria sarebbe esistenza perché bios vuol dire nascere crescere morire zoe invece è la vita diffusa ed eterna almeno finché le stelle stanno lassù continua quindi noi vediamo un idrogeno che viene attivato per bios e un idrogeno può essere attivato in zoe sappiamo che ci sono questi 104 gradi nella molecola dell'acqua tra i due idrogeni un numero che non ci dice niente o ci dice qualcosa 104 diviso 2 fa 52 e su questo siamo d'accordo però stranamente io cerco il 52 cerco il 52 sono gli angoli della piramide di Cheope cosa c'entra la piramide di Cheope cosa sapevano gli egizi dell'acqua quelli dell'acqua qualcosa sapevano sapendo come è fatto questo terreno oppure ripeto cosa sapevano i romani o come facevano i canali a Maciupicio io ci sono stato ho visto queste cose le forme del canale cambia a seconda del messaggio che vuoi portare nell'acqua perché la forma quando qualsiasi essere vivente noi in tutte le lingue diciamo sto bene sono in forma domanda qual è la forma dell'acqua qual è la forma in cui l'acqua può dire a se stessa sto bene guardate un fiume con tutte le sue anse è stato citato il lavoro di Theodor Swank oppure Schauberger qualcuno ha sentito questo nome Victor Schauberger almeno uno Schauberger grazie è una persona che faceva portava i fiumi nei boschi austriaci li portava fino a valle facendo i tronchi galleggiare su un centimetro di acqua un centimetro riusciva a sviluppare lui le chiamava la forza inclusiva dell'acqua e riusciva a fare questo a sviluppare nell'acqua c'è come dire una forza segreta che aspetta di essere manifestata qui ci sono lavori ho citato persone molto 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 più importanti di me io sono un piccolo apprendista però ci siamo anche noi confrontati e allora abbiamo detto bene come posso attivare gli idrogeni dell'acqua attivare l'idrogeno è chiaro che è un pensiero che qua ci sono diversi professori sono molto educati e hanno un viso sorridente interessato ma dentro il nostro professore di chimica sta soffrendo diciamo sta soffrendo per questo si vede ecco e noi abbiamo per fare quel vitalizzatore abbiamo studiato dieci anni non dieci giorni abbiamo fatto prove prototipi poi l'abbiamo provato parlo di quello domestico ad esempio guarda se lo trovi magari lo facciamo vedere abbiamo provato collegandolo a sei tipi diversi di tubi tubo di ferro tipo zincato tubo di plastica tubo tutti i tipi di rame di inox tutti i tubi per vedere poi con un metodo che si chiama cristallizzazione sensibile che è un metodo che ci permette di cogliere le qualità sottili come la vita una qualità sottile dell'acqua parlo di questo questo quello per uso domestico bene abbiamo qua un testimonio ti ho visto prima Roberto Renato chiedo scusa che ha fatto passare il latte per quel tubo quindi non era invitato non era invitato e io finisco poi tu puoi dire la sua prova lui lavora in un caseificio e vedremo cosa è successo al latte facendolo passare lì dentro io ci ho fatto passare l'olio aumenta del 50% le caratteristiche organolettiche calma un olio l'olio c'è un punteggio da 0,9 l'olio buono cosiddetto buono c'è punteggio 6 olio bio buono punteggio 4 è un olio che lo sputi acidità spaventosa abbiamo fatto le prove con i degustatori dell'olio e da 4 è andato a 6 quindi un olio da scarto diventa olio vendibile ci fai passare il vino la molecola diciamo alcolica viene come incistata e non ti ubriaca però sentiremo poi finisco perché non lo mollo sentiremo il latte cosa è successo allora noi abbiamo studiato questa forma una forma molto particolare questo doppio giro all'interno è vuoto si può suonare come una tromba però questa forma così semplice precisa al decimo di millimetro però è la forma che permette secondo noi all'acqua di essere in forma ecco basterebbe provare a passare l'acqua per questo vitalizzatore prima e dopo berla così il 90 e passa per cento delle persone sente la differenza la senti immediatamente leggera la senti immediatamente vitalizzata qua credo che molti persone lo stiano usando no qua tra i nostri uno qua tra i nostri due tre quattro cinque sei e gli altri sono esterni che da oggi speriamo che che acquistino i nostri vitalizzatori allora in questo modo noi creiamo che cosa creiamo qui il discorso si amplia bisogna parlare dell'atomo in questo caso della molecola dell'acqua come si può attivare ecco noi attiviamo come dire aumentiamo questa sua capacità di interagire con BIOS e con ZOE allora la prima versione è questo qui che vi ho detto la seconda abbiamo fatto anche questo in versione agricola alto un metro e mezzo costava una cifra spaventosa quindi era improponibile quindi abbiamo fatto un altro sistema completamente diverso come applicazione ma gli stessi principi una spirale di rame e all'interno c'è il prodotto un prodotto che vitalizza l'acqua crea un campo di forza e quando l'acqua passa viene vitalizzata perché quando l'acqua passa per un tubo liscio quello normale abbiamo fatto le prove dopo 10 massimo 20 metri è morta sono prove fatte con la cristallizzazione sensibile quindi noi portiamo in campo acqua morta ecco poi se volete noi beviamo non volevo detto il campo sì ma gli antichi non si sognavano di bere acqua morta si avrebbe da parlare di come facevano gli antichi a rivitalizzare l'acqua l'acquedotto romano è un esempio per tutti bene allora la domanda di fondo è che cos'è l'acqua io prendo un gas lo unisco a un altro gas e nasce un liquido già questo è un po' strano ma se un gas si chiama idrogeno che è il potere calorico massimo che ci sia l'altro gas si chiama ossigeno che è un comburente io metto il combustibile più alto col comburente puro dovrebbe essere un falò viene fuori l'acqua che spegne il fuoco cioè riflettiamo su queste cose che mistero c'è dietro l'acqua vuol dire che entra un catalizzatore di cui non conosco che permette questa formazione che io credo se non esistesse l'acqua e chiedo qua ai nostri professori prendi l'idrogeno lo unisci all'ossigeno cosa viene fuori lui direbbe come la polvere nera di Mr. Swartz l'ha il monaco tedesco che quando ha iniziato a pestarla gli ha scoppiato tutto se ci ricordiamo come è nata la polvere nera la polvere pirica non insegnano più queste cose io quando da bambino facevo i rassi sparavo rassi facevo le polveri nere quindi terrorizzato che mi scoppiasse quindi mi ricordo questa storia della polvere nera allora la domanda è qual è il catalizzatore questa è la domanda perché ho capito che c'è qualcosa che non è chimico non è fisico c'è qualcosa di diverso però devo tagliare poi abbiamo ancora un'ora io un'ora sull'acqua vado avanti tranquillo qual è questo catalizzatore allora siccome abbiamo detto che per noi ci sono due tipi di vita c'è la vita biologica e la vita diffusa Zoe ogni essere vivente porta in sé un frammento di Zoe noi lo gestiamo in 80 anni noi il mais in 8 mesi la rucola in 3 mesi tutti noi gestiamo un frammento una goccia chiamatelo che volete di Zoe bene allora io devo trovare un qualche cosa di Zoe che entri come goccia come frammento in BIOS in un BIOS che si chiama acqua per noi e la cosa diventa molto facile detta così la forza di Zoe che entra e che attiva l'acqua è la forza dell'acquario acquario portatore di acqua non è che ci vuole tanta fantasia ma non è che siamo nati così poi prendendo gli spunti dal corso di Cobber di Rudolf Steiner del 24 i preparati biodinamici adeguatamente combinati possono dialogare fino alla sfera zodiacale noi abbiamo fatto questo lavoro abbiamo preso questi preparati di origine vegetale abbiamo fatto questa combinazione questa combinazione mettiamo dentro questa spirale di rame e questo dà la forza all'acqua di diventare più acqua preciso che il tubo nero il tubo di plastica uccide l'acqua perché è troppo liscio oltre ad essere petrolio quindi portatore del messaggio di tenebra ma quando l'acqua passa per una pompa la velocità centrifuga della pompa sono più di 200 km all'ora distrugge completamente la vitalità dell'acqua e tutti abbiamo una pompa da qualche parte quindi noi anche noi abbiamo le pompe è chiaro però dietro la pompa c'è subito questa spirale che rivitalizza l'acqua l'acqua torna acqua questa è la nostra strada non è che dobbiamo convincere o in senso categorico noi ci stiamo lavorando sono circa 15 anni che lavoriamo su questo di queste spirali ne abbiamo fatte tante ma tante tante nessuno ce l'ha portata indietro fino adesso noi calcoliamo che può avere un effetto un miglioramento della capacità bagnante di circa il 20% quindi una riduzione di acqua questo con questa spirale stiamo già studiando delle spirali diverse per aumentare ancora questo fattore ma questo fa parte della ricerca che continuamente viene fatta ecco non so se sono riuscito essere esaustivo perché l'argomento è enorme a dir poco però come noi vediamo l'acqua per noi l'acqua è un essere vivente perché è la base della vita e quindi in lei c'è questa risonanza di vita come posso attivarla come posso spegnerla allora il sistema moderno spendo ancora una parola si dice che noi risparmiamo acqua usando l'impianto di irrigazione a goccia ed è vero benissimo ma l'impianto di irrigazione a goccia non l'hanno inventato gli israeliani sapete gli israeliani hanno copiato quello che fanno gli arabi perché gli arabi nel sistema oasi che è molto interessante da studiare mettevano delle anfore pieno d'acqua sotto le palme cosa succedeva che l'anfora di argilla trassudava queste micro gocce di acqua e la palma beveva queste micro gocce e con poca acqua viveva l'israeliano ha detto bene io allora irrigo gocce e ho lo stesso effetto no perché l'argilla è una sostanza anfotera cosa vuol dire anfotera che si comporta da acido con le basi e da basi con le acidi quindi è mercuriale è la sei germe della vita argilla rossa vi ricordo che l'uomo Adamo vuol dire tratto della terra rossa chissà perché la terra rossa è il sangue perché il sangue è anche se in tanto liquido però queste sono disquisizioni forse di altro ma se io uso il sistema arabo con poca acqua uso poca acqua vitalizzata dal trasudamento dell'argilla se uso il sistema israeliano ho poca acqua morta quindi me ne serve di più rispetto al sistema arabo cosa noi facciamo usiamo il sistema israeliano dell'irrigazione a goccia per mille motivi di praticità che neanche parlarne però siamo ben consci che la stiamo uccidendo e quindi con queste spirali la rivitalizziamo questo è quanto noi facciamo sull'acqua a questo livello poi ad esempio per fare queste prove abbiamo dovuto tirare tutto un tubo per vedere l'acqua normale perché qui non c'è più acqua normale qui è tutta acqua vitalizzata anche quella che beviamo noi non è che li vendiamo e non ci li beviamo insomma e quindi abbiamo dovuto fare veramente tirare questo tubo ed adesso stiamo iniziando a provare un secondo livello di vitalizzazione ancora più alto che di cui qui non si dice niente magari tra un anno tra due anni quando avremo fatto abbastanza corpo di esperienze potremo vedere il mio obiettivo è chiaro arrivare a coltivare con la stessa resa con il 10% di acqua questo è il mio obiettivo e ci sono le possibilità qui abbiamo visto col 50% l'anno prossimo arriveremo al 25% ma si può fare ancora dell'altro perché stiamo imparando se noi riusciamo a coltivare col 10% di acqua credo che abbiamo dato un contributo reale concreto ai bisogni della natura dell'uomo della terra poi abbiamo una filosofia certo che abbiamo una filosofia e chi non ce l'ha una filosofia anche il materialista è una filosofia noi crediamo nella vita come dono di Dio si può usare la parola Dio o mai è vietato usare la parola Dio noi ci crediamo e siamo qui per lavorare nella vita e per la vita questo dono che ci è stato dato e che noi come dire violentiamo parola pesante scusate giorno dopo giorno minuto dopo minuto andate e moltiplicatevi dicevo prima non è far figli moltiplicate la vita che è in voi e noi abbiamo anche una vita di pensiero una vita di sentimento è una vita di volontà e quando gli anni passeranno per tutti e guarderemo indietro cosa ho fatto della mia vita l'ho moltiplicata o l'ho consumata ecco questo è il motivo per cui noi facciamo questo girando le nostre tasche e autofinanziandoci e ringrazio tutti voi che oggi ci ascoltate e ringrazio permettetemi soprattutto i due professori universitari che hanno un po' col fiato sospeso hanno avuto sempre più fiducia almeno di cosa fanno quelle persone lì perché prima di dire tutto sbagliato bisogna anche andare a vedere bene domanda sull'acqua chiedo scusa ma era era noi siamo all'80% di acqua almeno l'80% deve parlare anche all'acqua chiedo scusa e il latte valletta è nato della latteria di Borgorriolo di Fagani Borgorriolo di Fagani non c'è abbiamo parlato di questa vitalizzazione una sera e c'ero anch'io e la mia prima intuizione è quella di provare il latte proviamo a vitalizzare il latte allora tra l'altro mia madre produceva ancora aveva la stalla quindi il latte di di casa sono venuto giù una sera abbiamo vitalizzato e il giorno dopo ho portato a casa i due campioni testimone e meno e testimone vitalizzato e le mie analisi si potevano fermare a cosa vedevo quindi pH acidità erano simili e dopo abbiamo fatto fare anche dell'analisi da un laboratorio ma erano simili però col tempo io avevo messo due provette una di testimone e una di latte vitalizzato e dopo un mese addirittura dimenticate ho visto che il latte vitalizzato aveva quasi tutta la percentuale di secco ancora ancora ben visibile l'altra era tutta persa insomma c'era solo l'acqua e da qui ho fatto delle foto che ho portato forse ci sono ancora e e io mi sono fermato lì però c'è da studiare voglio dire questo era quello che potevo fare io e da lì abbiamo fatto una prova anche su abbiamo fatto del formaggio con un latte vitalizzato ma bisognerebbe fare con lo stesso latte stessa lavorazione è rimasto lì però qua mi viene l'occasione per dire per proporre un un altro studio sulle sulle tossine che ci sono nel latte adesso che c'è un problema di tossine forse questo vitalizzatore potrebbe anche non dico altro grazie perché vai via? c'è la foto del latte che pari sì perché abbiamo la foto ma nell'altro computer chiedo scusa praticamente nel vitalizzato il latte era ancora latte diciamo e nell'altro si era completamente separato tutte le frazioni dico bene era così a memoria bene dopo un mese dopo un mese sì è interessante prego caro Renzo ti ringrazio per avermi invitato a questo incontro che vedo con grande piacere che viene sentito questo problema perché c'è molta gente in questa occasione ti ringrazio quindi di questo mi congratulo per il lavoro in mani che hai fatto che stai facendo e tu sei partito col piede giusto perché parti dal sostratto degli fenomeni per dare una soluzione pratica ai problemi ecco questa direi che è la cosa vincente partire proprio dalla filosofia per arrivare alla soluzione dei problemi pratici io concludo con una domanda il risultato ottenuto che mi pare sia una cosa acquisita di poter risparmiare un 30% di acqua in alcune coltivazioni è un grandissimo risultato quando pensi che questo possa essere portato a conoscenza di coloro che hanno bisogno di questo e quando pensi che possa essere immesso nella società su larga scala ecco questa è la domanda che ti faccio augurandomi che questo possa avvenire al più presto possibile sempre rimanendo sul fatto che la continua ricerca è senz'altro appagante ma secondo me l'esigenza oggi in questo periodo di terribile crisi che stiamo attraversando è quella di mettere a frutto i risultati delle ricerche fatte grazie molto brevemente per dire che noi siamo più che pronti non è che ci tiriamo indietro qua c'è tanta persone anche autorità ognuno può pensare di suo cosa può fare io so che da metà gennaio fino a metà febbraio per un mese intero qui farò un corso di arido cultura metà febbraio metà marzo chiedo scusa quindi proprio un mese completo teoria e pratica di queste tecniche varia gente dall'argentina varia gente dall'africa e noi cominciamo chiaro che noi siamo qui e poi vengono dall'argentina e vengono dall'africa forse verrà qualche d'uno che l'acquedotto di ledra non bagna oltre il basiliano non lo so noi siamo qui siamo qui aperti a disposizione ripeto quello che ho detto prima abbiamo circa una quindicina di metodi qui ne abbiamo solamente nucleati due ce ne sono altre possibilità perché l'obiettivo lo ripeto è il 10% quello è l'obiettivo va bene ognuno può fare la sua parte noi stiamo collaborando abbiamo iniziato a collaborare con una fondazione non so se si può dire quella di Renzo Rosso di Diesel che lavora molto nell'Africa subsahariana stiamo presentando proprio adesso per fine mese cinque progetti di cui riguardano molto la siccità l'acqua e tutto quanto chiaro che i tempi sono quelli che ci sono d'altronde fino adesso noi ci siamo autofinanziati quindi in una Italia dove lavori solo con lo sperpero le volte del denaro pubblico non dico che col denaro pubblico lavori le volte spesso sentiamo qualche le cronache cosa dicono noi abbiamo messo il nostro perché ci crediamo semplice fai una cosa se ci credi prego se c'è qualche altra domanda se no incominciamo a parlare di nitrati la mia curiosità è come si comporta un seme al quale avete dato l'imprinting di crescere in carenza d'acqua nel caso arrivasse un alluvione o ci fosse un eccesso di acqua improvviso dopo che lui è cresciuto con un periodo di assenza d'acqua la risposta non te lo so dire però posso dirti un'altra cosa che questa prova che avete visto che è data la prova a siccità quindi vuol dire anche resistere al caldo parlando del seme e questi peperoni forse ma qui non abbiamo il computer giusto chiedo scusa perché non funzionava stamattina chi ci ha visto eravamo un po' in panico un quarto d'ora prima quindi non è il computer che ha tutto in memoria e a novembre quando la prova l'anno scorso perché sono due anni che portiamo avanti questa prova l'anno scorso novembre si doveva togliere tutto poi abbiamo detto va bene facciamo la prova per il freddo perché lavoriamo anche sul freddo che non ho detto niente riusciamo a far nascere il frumento con 12 giorni prima abbiamo fatto le prove in frigorifero quindi accorciamo il ciclo vegetativo pensando il primo e il dopo di circa un mese questo è molto interessante in Svezia quando io ero su in Svezia loro seminano la segala il 15 settembre su terreni dove hanno raccolto la segala il primo settembre gli fa 11 mesi e mezzo di gestazione con quel clima e se gli viene una brutta pioggia in mezzo loro non fanno segala quindi lavorare sul freddo guardate che per qualche d'uno è altrettanto interessante che lavorare sul caldo e anche lì siamo riusciti a vedere questo quindi questi peperoni che erano calibrati per il secco quindi caldo secco arido alla fine abbiamo fatto degli interventi a spruzzo sulla pianta per dargli la resistenza al freddo morale è venuto il freddo dicembre fino a capodanno fino a fine di dicembre erano gelati vivi vivi no gelati morti vivi quindi abbiamo in corso d'opera posso dirti che abbiamo cambiato l'imprinting della pianta abbiamo fatto questa prova questo che tu dici fa parte di avere poi un campo adeguato poter fare questi esperimenti qui ormai per noi possiamo ripetere ancora di un anno la prova c'è chi ha sete e gli basta anche quello che ha visto qua ma l'importante è poi andare dove c'è il concreto bisogna andare in africa bisogna andare in argentina bisogna andare in brasile bisogna andare nei diversi tipi di aridocultura e cominciare a fare le prove perché ormai che c'è anche solo questo 30% per chi non ha acqua non è festa grande e ti fanno sindaco come minimo se qualcuno vuole entrare sindaco questo modo è per entrare sindaco bene io direi prego una domanda da ignorante e la domanda in merito all'alluvione improvvisa su un seme trattato con il prodotto per la siccità ma se abbiamo visto prima che il 100% di adacquamento era in realtà più di quel che serviva anzi parlavi che poi c'era stato come un dilavamento del terreno o qualcosa del genere possiamo ipotizzare che quindi come hanno resistito tutti quei mesi con tanta acqua vuol dire che comunque se ci fosse un'alluvione avrebbero comunque la capacità di resistere di produrre allora l'ultima chiedo scusa si possono fare tante ipotesi io so qualcosa di concreto che quando in marzo viene tanta pioggia sulle coltivazioni soprattutto frumento il frumento ingellisce va in asfisie radicale e noi siamo diciamo tra virgolette forti perché abbiamo fatto dei prodotti che spostati sul frumento gli fa superare l'asfisie radicale questo è ultracollaudato su aziende di centinaia di ettari per cui niente toglie che nel caso di questa alluvione chiamiamola così si possa intervenire in genere basta intervenire entro le 72 ore se proprio c'è un alluvione se è un processo più lento si interviene lo stesso ma sul frumento giallo l'abbiamo fatto tornare verde ripeto aziende di centinaia di ettari se volete nome e cognome quel che volete questo in Toscana soprattutto su grano duro penso che ci possa bastare quindi direi che possiamo passare la parola al professor Ciccon per quanto riguarda la prova di nitrati prego buongiorno a tutti no no grazie io volevo innanzitutto ringraziare gli organizzatori di questo incontro per avermi invitato e dato la possibilità di presentare alcuni risultati che sono emersi dalle sperimentazioni che abbiamo condotto per come dice il titolo dell'intervento confrontare i risultati che possono emergere dal confronto di diverse tecniche culturali in realtà sono quattro tipologie di tecniche culturali come vedremo subito è uno studio che è partito addirittura una ventina di anni fa all'inizio degli anni 90 abbiamo incominciato coinvolgendo dapprima due aziende una convenzionale e una biologica direi che queste indagini ci hanno permesso di scaldare i muscoli diciamo quindi abbiamo visto come fare alcune cose cosa evitare come fare meglio eccetera eccetera e man mano il gruppo interdisciplinare si è arricchito perché come vedete siamo arrivati alle sperimentazioni condotte in particolare gli ultimi due anni 2012 2013 con la partecipazione di dei due dipartimenti dell'Università di Udine dell'ERSA Friuli Venezia Giulia e dell'ARPA sempre Friuli Venezia Giulia Dipartimento di Pordenone inizialmente l'idea era stata quella una ventina di anni fa ci aveva stuzzicato l'interesse il fatto di poter confrontare il livello di nitrati ottenuti in quella volta siamo partiti cominciando a considerare tre diverse tipologie di verdure da taglio lattugino da taglio cicoria da taglio e rucola poi abbiamo ridotto il campo di indagini alla rucola perché anche da una numerosissima serie di dati di letteratura già si sapeva che la rucola presenta i valori più elevati di nitrati e quindi era molto più interessante dal punto di vista diciamo scientifico e rispetto alle due aziende che avevamo coinvolto inizialmente una convenzionale e una biologica poi nel corso degli anni hanno dimostrato il loro interesse e hanno partecipato alla sperimentazione anche un'azienda omeodinamica e una idroponica in effetti l'interesse nei confronti dei nitrati era nato appunto addirittura all'inizio degli anni 90 e non era certo una nostra idea ma l'avevamo tratta dall'esame di un sacco di lavori di letteratura e in effetti come vedete nel corso degli anni prima nel 2006 e ultimamente nel 2009 esattamente come vedete due anni fa 2 dicembre del 2011 la comunità europea ha recepito una serie di risultati che sono emersi da sperimentazioni in particolare sulla rucola regolamentando con questi due regolamenti prima nel 2006 poi nel 2011 i tenori massimi ammissibili di nitrati in alcuni prodotti alimentari fra i quali come vedete nel 2011 è stata inserita anche la rucola che prima era assente e i livelli massimi come vedete dipendo sono sono stati riportati due livelli massimi uno relativo alla coltivazione diciamo invernale fra virgolette nei mesi più freddi dal primo ottobre al 31 marzo è ammessa a un livello più elevato 7000 mg chilo e l'altro periodo è quello relativo ai mesi più caldi primo aprile 30 settembre nel quale il livello massimo è di 6000 mg chilo nel corso di tutti questi anni di interesse da parte nostra e da numerosissimi come vi dicevo dati di letteratura non siamo certi gli unici che si sono interessati di nitrati nelle verdure da taglio o nella rucola sono emersi però una serie di fattori che possono influire sul contenuto di nitrati non so se tutti hanno noto il problema nitrati ve lo ricordo brevemente non è tanto il nitrato in sé che preoccupa come presenza negli alimenti nelle bevande nelle verdure nella rucola quanto il fatto che nel nostro stomaco in particolari condizioni soprattutto se c'è anche la presenza contemporanea di ammine i nitrati possono originare nitrosamine che sono cancerogene e quindi da questo deriva il particolare interesse nei confronti dei nitrati negli alimenti che noi abbiamo a disposizione ed è emerso come vedete che ci sono numerosissimi fattori che possono influire sul livello di nitrati la tecnica culturale quindi convenzionale biologico omeodinamico idroponico tipo e quantità di fertilizzanti utilizzati sul terreno oppure tipo e quantità di principi nutritivi sciolti nella soluzione nutritiva utilizzata nell'idroponico modalità di coltivazione può variare dal fatto se si coltiva in serra o in campo aperto caratteristiche del terreno che possono trattenere più o meno i principi nutritivi l'acqua eccetera anche la carica microbica da questo punto di vista è importante temperatura e umidità dell'ambiente quindi stagionalità variazione fra primavera estate autunno eccetera epoca di coltivazione disponibilità di acqua per la pianta quindi se la pianta viene più o meno irrigata questo può influire sul livello di nitrati conducibilità del terreno o della soluzione nutritiva utilizzata nella coltivazione idroponica cioè quantità complessiva praticamente di sali presenti densità di semina quindi se le piante sono più o meno distanziate o più o meno vicine luminosità quindi questo diciamo legato sia alla stagione in estate ovviamente la luminosità è maggiore ma anche al fatto che la coltura sia condotta in campo aperto dove la luce del sole arriva direttamente o all'interno di una serra dove viene filtrata attraverso il telo o il tetto di copertura orario di raccolta durante la notte la pianta tende ad accumulare nitrati quindi se viene raccolta nelle primissime ore del mattino ne ha un livello più elevato sarebbe meglio da questo punto di vista ritardare l'ora della raccolta in modo da abbassare il livello di nitrati ma ovviamente questo contrasta con la necessità di raccogliere il prodotto e poi portarlo nei punti di vendita per offrirlo al consumatore fin dalle prime ore del mattino o dall'orario di apertura dell'esercizio commerciale sostanzialmente altezza del taglio rispetto alla radice nel gambo diciamo viene accumulato di più nitrato quindi se il taglio avviene a un'altezza maggiore dal suolo il livello di nitrati si abbassa stato di maturazione della pianta quindi se la raccogliamo troppo in anticipo o troppo in ritardo rispetto al suo stato di maturazione ottimale tempi e condizioni di conservazione del prodotto dopo la raccolta quindi a seconda di come per quanto tempo e in che condizioni viene conservato il nitrato può aumentare o diminuire tipicamente diminuisce anche nel periodo successivo alla raccolta e probabilmente qualche fattore me lo sono dimenticato ma già così come vedete c'è un elenco lunghissimo che ci dice cosa dato che alcuni di questi fattori influiscono in un senso cioè tendono a far aumentare il livello di nitrati altri influiscono in senso inverso che cosa viene fuori da questo che in effetti come succede analizzando tutta la letteratura disponibile che è enorme viene fuori che i risultati sono molto diversi i risultati ottenuti da decenni da tantissimi sperimentatori sono molto diversi a seconda dei casi e in molti casi anche contrastanti in alcuni casi risulterebbe che è meglio un metodo in alcuni un altro eccetera eccetera allora che cosa abbiamo pensato di fare per portare il nostro contributo a chiarire almeno alcuni di questi aspetti abbiamo cercato di limitare il più possibile i fattori di variabilità scegliendo quindi contattando e avendo la disponibilità di aziende che sono situate a una distanza in un diametro diciamo di una trentina di chilometri nella stessa zona geografica tutte le produzioni sono state effettuate in serra sono state prese in considerazione le produzioni di tre periodi dell'anno primaverile estiva e autunnale in modo da fare il confronto fra di loro il metodo di irrigazione utilizzato all'interno delle serre è stato il più possibile simile simile ma non identico evidentemente e quindi abbiamo cercato di limitare il più possibile i fattori di variabilità addirittura agli ultimi due anni 2012 e 2013 siamo riusciti a utilizzare non solo la stessa varietà di rucola che è la rucola selvatica quella con la fogliolina frastagliata ma abbiamo utilizzato lo stesso stock di sementi che c'è stato fornito da una delle aziende che hanno partecipato alla sperimentazione è stato distribuito anche alle altre tre quindi per tutto il corso del 2012 e poi per tutto il corso del 2013 nelle tre semine primavera estate autunno abbiamo utilizzato lo stesso stock di sementi per limitare per eliminare anche questo fattore di variabilità e quindi a quel punto abbiamo cercato di ottenere dei risultati che potessero mostrare qual è l'effetto possibilmente solo ma poi vedremo che non è così semplice solo del metodo di coltivazione sui risultati ottenuti anzi come vedete le aziende che hanno partecipato in tempi diversi alla sperimentazione sono cinque perché in realtà al metodo convenzionale hanno partecipato due aziende diverse che ho chiamato convenzionale 1 e convenzionale 2 convenzionale 1 ha sempre fatto per una sua convinzione per una sua diciamo filosofia uso di quantità inferiori di fertilizzanti diciamo il meno possibile fra virgolette mentre il convenzionale 2 per tradizione abitudine eccetera ha sempre utilizzato abbondanti quantità di fertilizzanti siamo nel convenzionale quindi sono sostanzialmente fertilizzanti sintetici ok possiamo andare avanti e cominciamo a vedere no così sentite meglio lo tengo proprio lo tengo appoggiato così no così ok meglio sto girato verso di voi così forse qualche allora convenzionale 1 uso di quantità ridotte di fertilizzanti come vedete anzi non so se riuscite a vedere perché forse i dati sono molto piccoli rispetto al allora diciamo la sperimentazione è stata condotta i dati del 2013 non sono ancora disponibili quindi ho riportato in questa tabella i risultati del 2009 2010 e 2012 cosa possiamo vedere qui è riportato il tipo e la quantità di concimi utilizzati che sono a parte un caso organo minerale ma in tutti gli altri casi concimi minerali di sintesi ovviamente siamo nel convenzionale i livelli di nitrati hanno mostrato una diciamo abbastanza evidente correlazione con la quantità di concimi utilizzati vedete che qui vedete o ve lo dico io se non riuscite a vedere abbastanza chiaramente qui abbiamo 14 kg su mille metri quadri 18 18 poi nel 2010 il produttore è passato addirittura a quantità inferiori 10,5 5,5 di solo nitrato d'ammonio nella coltivazione autunnale non ha addirittura utilizzato nulla come fertilizzazione perché il terreno gli sembrava già abbastanza ricco di per sé nel 2012 per diciamo consigliato dal tecnico che lo segue mentre ha mantenuto un quantitativo di 10 kg nella semina primaverile poi è passato a 23 e 26 rispettivamente cosa vediamo che nel 2009 noi avevamo livelli di nitrati 5500 4500 3400 comunque al di sotto dei limiti previsti dal regolamento dell'Unione Europea ma diciamo nettamente superiori rispetto all'anno successivo quando probabilmente il terreno ha cominciato a risentire parliamo solo di nitrati quindi non parlo di altre caratteristiche consistenza aspetto eccetera eccetera dal solo punto di vista dei nitrati la pianta ne ha risentito positivamente perché nel 2010 siamo passati a 1600 2200 2500 quindi una netta diminuzione nel livello di nitrati che si è mantenuta anzi il livello più basso direi esattamente 1400 si è avuto proprio nella produzione primaverile 2012 apparentemente l'aumento nel livello di concimazione 23 e 26 si è subito manifestato in un innalzamento del livello di nitrati 2700 4500 quindi diciamo sembra confermato quello che era emerso già da parecchie altre indagini che i nitrati vengono accumulati più facilmente nella pianta se il livello di fertilizzazione aumenta oltretutto essendo concimi di sintesi il nitrato è spesso immediatamente disponibile presente nel fertilizzante e quindi immediatamente assorbito dalla pianta passiamo alla successiva qui invece siamo nel convenzionale 2 quello che aveva la mano molto più aveva perché ha partecipato alla sperimentazione come vedete solo nel 2009 e 2010 però aveva la mano molto più pesante come vedete per tutto il 2009 165 kg su 1000 m2 diciamo sulla base dei risultati che noi gli abbiamo fornito non tanto dei livelli di rucola di nitrato nella rucola che comunque erano 4600 3400 6500 erano comunque al di sotto o al limite dei livelli previsti dal regolamento tra l'altro siamo nel 2009 2010 quindi vi ricordate che il regolamento dell'Unione Europea non aveva ancora preso in considerazione la rucola quindi il produttore era tranquillo da questo punto di vista era più preoccupato a dir la verità dalle caratteristiche del terreno azoto fosforo e potassio presenti nel terreno in particolare non so se riuscite a vedere potassio 1000 1800 cioè una cosa inimmaginabile per cui stimolato da queste analisi da questi risultati delle analisi sul terreno l'anno successivo ha dimezzato il quantitativo di concime utilizzato 85 chilogrammi su 1000 metri quadri passando a un fertilizzante non azoto fosforo potassio ma azoto fosforo potassio ce n'era già un sacco una sporta nel terreno quindi questo risparmio notevole anche per il produttore dal punto di vista del costo del fertilizzante utilizzato ha comportato comunque una riduzione molto parziale del livello di potassio nel terreno 800 800 600 mentre per quanto riguarda il tenore di nitrati ha avuto un effetto tutto sommato abbastanza marginale perché come vedete addirittura nella coltivazione primaverile 7200 saremmo stati se ci fosse stato il regolamento in quell'anno che prevedeva il livello di nitrati anche per la rucola era fuori sarebbe stato fuori 3700 4600 quindi diciamo presumibilmente il terreno era così ricco di principi nutritivi che anche dimezzando il quantitativo di apporto nel 2010 gli effetti sono stati molto blandi probabilmente il terreno siamo in serra poi oltretutto quindi le piogge hanno un effetto praticamente nullo sul dilavamento di principi nutritivi presenti e forse se avessimo potuto continuare la sperimentazione anche con questo produttore avremmo forse visto risultati solo negli anni successivi ma questo non è stato possibile passiamo alla successiva allora biologico qui diciamo biologico sono raccolte in un'unica tabella come vedete le coltivazioni primaverile estiva e autunnale di tutte le tre annate considerate 2009 2010 2012 nel biologico si osservano cose diversissime fra di loro soprattutto perché ve l'ho sintetizzato molto in questo titolo questo forse lo riuscite a vedere anche là in fondo impiego di tipi e quantità variabili aggiungerei a voce molto variabili di concimi ovviamente utilizzati nel biologico in particolare pollina guano e stallatico ma così variabili che mettendo insieme anche i primissimi risultati che erano emersi dalle indagini dell'inizio anni 90 questa è l'azienda che ha cominciato a collaborare con noi già una ventina d'anni fa quindi lì si è osservato che il tipo e le quantità di concimi sono stati molto molto variabili e di conseguenza nella rucola coltivata con metodo biologico si possono osservare tenori molto molto diversi non tanto nella coltivazione primaverile qua vedete purtroppo ho potuto riportare solo questo è solo un dato un solo anno nel quale abbiamo ottenuto siamo riusciti ad avere una coltivazione primaverile nel biologico e quindi 2200 ma negli altri casi quando abbiamo avuto più coltivazioni estive e più coltivazioni autunnali questo è il range da 925 a 2725 da 2400 a 5400 c'è dentro un po' di tutto siamo sempre al di sotto come vedete dei limiti ma nel biologico cosa succede presumibilmente che dato che pollina guano stallatico non forniscono immediatamente nitrato il concime che viene fornito al terreno viene mineralizzato molto più lentamente quindi la pianta poi assorbe dalle radici l'azoto solo sotto forma di nitrato come sapete questo viene mineralizzato molto più lentamente ma in tempi molto lunghi nel terreno e la pianta lo può assorbire in maniera molto diversa a seconda dei casi quindi abbiamo questi range di variabilità molto elevate andiamo avanti metodo omeodinamico anche qui purtroppo abbiamo avuto finora una sola coltivazione autunnale quindi qui è riportato un solo dato 2000 mentre nel caso delle coltivazioni primaverili ed estive abbiamo avuto più risultati nel corso degli anni anche qui notevole variabilità come vedete 260 2000 285 3003 cosa ci dice questo allora io mi sono fatto l'idea che questa grande variabilità di dati possa dipendere in larga misura dal fatto che le persone che si sono succedute all'interno di questa che hanno contribuito alle produzioni omeodinamiche sono state numerose si sono passati la mano più volte nel corso di questi anni la stessa quantità di acqua fornita alle piante è variata in maniera molto diversa un anno perché si va anche un po' a occhio come potete immaginare si vede come la pianta se la pianta sta bene o se sta soffrendo soprattutto in estate e in estate infatti nelle stati di queste tre annate prese in considerazione 2009 2010 2012 soprattutto nel periodo estivo sono state osservate le maggiori variabilità nel tempi e quantità di acqua fornita alla pianta durante la produzione estiva per cui dato che abbiamo visto che la disponibilità di acqua è uno dei fattori critici questo potrebbe spiegare il fatto che c'è questa notevole variabilità all'interno dei risultati ottenuti anche se come vedete complessivamente l'omeodinamico presenta i valori più bassi rispetto alle coltivazioni convenzionali e biologiche apro una parentesi forse avete colto prima da una delle battute che ha fatto il professor Nastati a mio carico che aveva colto una certa perplessità io ho cercato di mettermi con mente serena di fronte a queste situazioni non sono partito affatto e assolutamente con l'idea che l'omeodinamico fosse migliore rispetto ad altri metodi ho cercato di raccogliere dei dati e poi di commentarli e quindi questo diciamo mi permette con animo molto sereno di dire che i risultati finora ottenuti sulla coltivazione della rucola con metodo omeodinamico hanno mostrato i risultati mediamente più bassi rispetto a tutti gli altri metodi di coltivazione ultimo metodo considerato idroponico come sapete immagino idroponico significa non su terreno ma la pianta viene seminata su dei pannelli di polistirolo che galleggiano in vasche d'acqua dove vengono sciolti i principi nutritivi i principi nutritivi sono i più perlomeno quelli che sono riportati in questa tabella sono nitrato che quindi viene assorbito direttamente dalle radici della pianta che passano attraverso il pannello di polistirolo e pescano nella vasca ammonio fosforo e potassio qui abbiamo raccolto molti dati di produzioni sia primaverili che estive che autunnali nel corso dei tre anni considerati quindi c'è sempre un range una variabilità 4.800 7.000 qua siamo al limite o un po' oltre il limite ammesso dal regolamento europeo produzione estiva 6.700 10.100 non commento coltivazione autunnale 6.400 6.800 al limite appena sotto al limite quindi diciamo complessivamente ma questo non è che l'abbiamo scoperto noi questo era acquisito abbondantemente dai dati di letteratura l'idroponico la tecnica idroponica è quella che in assoluto presenta i valori più elevati di nitrato nelle verdure coltivate con questo metodo ultima slide conclusioni allora purtroppo noi abbiamo cercato come vi dicevo all'inizio di limitare il più possibile nella nostra intenzione volevamo limitare tutti i fattori di variabilità però avete visto che l'elenco era piuttosto lungo e sicuramente non era esaustivo quell'elenco ci abbiamo provato ma siamo riusciti a ottenere risultati solo parziali perché perché le variazioni nel livello di nitrati che abbiamo osservato probabilmente possono dipendere anche dal fatto che non è stato possibile tenere sotto rigoroso controllo alcuni fattori per esempio pur avendo avuto la disponibilità di queste cinque aziende che ci sono venute incontro moltissimo eccetera per motivi loro culturali commerciali produttivi eccetera come è successo se io un giorno arrivo lì e trovo che un produttore sopra la serra durante il mese di luglio ha sistemato una reticella nera ombreggiante per diminuire la temperatura all'interno della serra cosa posso fare non gliela posso togliere perché quella è la sua proprietà ha deciso per motivi suoi di ombreggiare ma evidentemente la luminosità all'interno della serra in questo modo è cambiata ed ha avuto un sicuro inevitabile effetto sul risultato ottenuto non ho potuto farci niente se non mostrare avete visto prima che non riesco a trattenere molto le mie sensazioni sono state colte e quindi quando sono andato lì è chiaro che ho manifestato diciamo dispiacere detto in italiano però non ho potuto far nulla quello è il risultato che abbiamo ottenuto innaffiature è chiaro che i produttori si comportano a seconda di come vedono la pianta se nella serra c'è bisogno di intervenire alcuni per esempio soprattutto durante la stagione estiva alcuni produttori innaffiano nelle giornate più calde per esempio tre volte al giorno mattina pomeriggio e sera per 5-10 minuti ma tre volte al giorno altri anche durante la stagione estiva innaffiano una volta al giorno per 45 minuti cosa posso farci ho cercato di tenerli il più possibile sotto controllo ma non sono riuscito oltre un certo livello poi ovviamente molto dipende dalle coltivazioni precedenti che influiscono come sapete ma lì se loro decidevano di seminare la rucola in quella serra non potevo fare niente perché dipendeva dalle loro necessità produttive complessive dell'azienda se voi guardate con più calma i dati che qua sono scorsi molto rapidamente non abbiamo osservato una relazione certa fra livello di nitrati e periodi di coltivazione in alcuni casi la rucola estiva ha mostrato livelli più elevati ma in altri casi non è stato così in altre aziende è stata la rucola primaverile che ha mostrato livelli più elevati in altri quella autunnale quindi su questo aspetto non possiamo dire nulla la cosa che mi sento di dire con più tranquillità è come vi ho commentato anche quando abbiamo visto le tabelle relative soprattutto al convenzionale 1 si è osservata una relazione tra livello di nitrati e quantità di fertilizzanti utilizzata lì direi è emersa abbastanza nettamente sicuramente questo ve l'ho già detto prima commentando l'omeodinamica i livelli complessivamente più bassi sono stati osservati nella rucola coltivata con metodo omeodinamico e quelli complessi quindi quella è spostata verso il basso quella più spostata verso l'alto è ovviamente direi come da anche da migliaia di dati centinaia di dati di letteratura quella coltivata con metodo idroponico infine in alcuni casi soprattutto coltivazione idroponica nel periodo estivo e anche coltivazione convenzionale il convenzionale 2 che aveva la mano molto pesante quantità molto rilevanti di fertilizzanti in alcuni casi i livelli di nitrati si sono mostrati superiori a quelli previsti dal regolamento europeo che stabilisce 6.000 o 7.000 a seconda del periodo di coltivazione possibilmente e compatibilmente con la disponibilità delle aziende adesso sono rimaste 4 come avete visto con la disponibilità delle 4 aziende che ci hanno accompagnato finora potremmo proseguire la sperimentazione anche in futuro cercando di limitare ulteriormente i fattori di variabilità in modo da verificare veramente se c'è questa e fino a c'è come avete visto ma fino a che punto arriva l'effetto del metodo di coltivazione sul livello finale di nitrati nella rucola ringrazio tutti dell'attenzione bene se c'è qualche domanda è una precisazione scusate di parte il metodo amiodinamico è quello che facciamo noi che non tutti lo sanno quindi il nostro scopo chiamiamolo così subdolo ma palese era di dimostrare che riusciamo a produrre quantità e anche migliorare la qualità che è la grande forbice in cui si dibatte l'agricoltore perché in genere per avere quantità è a scapito della qualità e viceversa e bisogna capire poi l'ambiente che spesso i malvolentieri deve pagare per tutti quindi questo era il nostro obiettivo se ci sono delle domande prego prego costi dei metodi la costa di economia allora io oggi sono sono intervenuto solo sul livello di nitrati in realtà due colleghi del dipartimento mio di scienze economiche e statistiche che sono economisti la vecchia dizione economia agraria hanno raccolto nel 2012 e nel 2013 i dati relativi ai costi di produzione per confrontare i quattro metodi di coltivazione però i dati del 2013 come vi dicevo in sede di presentazione non sono ancora disponibili e nessuno dei miei colleghi ha potuto intervenire oggi altrimenti ci saremmo divisi l'intervento in modo da farvi vedere anche quello però li abbiamo presi in considerazione quindi al prossimo incontro ci prendiamo l'impegno di trovarci di nuovo qui per e vi mostreremo e vi mostreremo anche i risultati relativi ai costi di produzione per quanto riguarda i quattro metodi ok non riesce a portare no perché non me li hanno neanche anticipati so che diciamo allora per grandi linee ma giusto due cose ma non so neanche se hanno prendetele per il valore che hanno ma sono cose piuttosto note direi nel biologico e nell'omeodinamico c'è una grande contributo di operazioni manuali quindi il costo della mano d'opera influisce molto più pesantemente rispetto a quello che succede nel convenzionale e nell'idroponico nell'idroponico ci sono delle operazioni per esempio non lo so la rucola in questo caso che si raccoglie non è sporca di terra perché non c'è terra quindi è più pulita ma all'interno delle vasche va mantenuta sempre una circolazione di aria in modo da ossigenare la vasca quindi ci sono costi per esempio di notevoli di consumo di energia elettrica per tenere in funzione le pompe di circolazione dell'aria ci sono molti fattori di variabilità io sono chimico come mi ha presentato prima il professor Nestati quindi mi sono occupato più specificamente della parte nitrati della parte costi al prossimo incontro ok ecco io volevo solo chiedere una precisazione su cioè una precisazione volevo chiedere al professor Ceccon sulle tabelle quindi per esempio quella dell'omeodinamico visto che risulta essere come scritto quella col minor quantitativo di nitrati mi è sfuggito come mai per esempio nella coltivazione primaverile ed estiva c'è questo range di valori e invece in autunno c'è un valore medio più o meno ha un unico valore di sperimentazione ci si c'è dove trovato lo genio di medici 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 cioè l'intervallo mostra che almeno migliori se non di coltivazione nel terreno di estino e la coltivazione è un'opera almeno di due anni di l'anima quindi proprio per capire per esempio in primavera in un caso è stato trovato 260 ppm sì e nell'altro 2015 non so vi siete spiegati questa differenza di 10 volte le persone che hanno contribuito proprio in pratica alla coltivazione sono cambiate nel corso degli anni c'è stato un passaggio di consegne fra una persona un'altra un'altra ancora eccetera e quindi sicuramente questo ha influito perché per esempio banalmente tempi e quantità tempi di irrigazione il sistema di irrigazione è lo stesso però i tempi sono variati moltissimo in alcuni casi siamo riusciti a ricostruire la cosa vi faccio l'esempio più classico che mi viene in mente in un caso non sono riuscito a ricostruire i tempi di irrigazione perché perché la persona che aveva seguito la coltivazione aveva cambiato mestiere se n'era andata quindi quando siamo andati lì a raccogliere con il carta penna e calamaio come si diceva una volta per prendere nota di come era stata fatta la cosa non siamo riusciti più a saperlo perché la persona era andata via non è stata più raggiungibile quindi ci sono degli intervalli direi notevoli dove invece anche nel materiale nella vostra cartellina non solo nel caso dell'omeodinamico ma ci sono per esempio nel biologico c'è un altro caso c'è un unico dato 2016 più o meno cosa vuol dire vuol dire che quella è la variabilità deviazione standard si chiama per se a qualcuno dice qualcosa cioè vuol dire che lo stesso la stessa rucola che è stata raccolta nell'autunno di quell'anno non è stata esaminata una volta per poter dare un risultato secco per poter avere un'idea un po' più approfondita della situazione sono stati raccolti tre sacchetti diversi sulla stessa sulla stessa aiola della stessa serra quindi alla fine i risultati i risultati ottenuti sono stati poi la determinazione dei nitrati si fa con uno strumento particolare per ognuno di questi tre si dice campioni di rucola raccolta la determinazione dei nitrati è stata condotta due volte quindi alla fine avevamo sei valori di nitrati per cui 2016 è il valore medio di quei sei più o meno significa che la variabilità all'interno di quella produzione ok quindi nei casi nei quali trovate un unico valore più o meno significa che purtroppo siamo riusciti ad avere una sola produzione in quel periodo dell'anno in tutti gli anni che abbiamo considerato cercheremo di aggiungere qualche dato i prossimi anni bene sì faccio io scusate la venalità ma da produttore mi viene di chiedere questo insomma le produzioni se sono state valutate con i vari metodi produttivi per unità di superficie si sono state valutate è stata valutata la resa è stata valutata ma non è stata riportata no diciamo per questioni di spazio e di tempo disponibile non sono state riportate però se lei è interessato sono dati che in parte abbiamo già pubblicato e comunque sono disponibili a tutti gli interessati a tutti non mi ricordo se nella cartella è riportato il mio indirizzo email no non credo ve lo ve lo posso lasciare chi mi fa richiesta gli posso inviare i dati relativi anche alla allora abbiamo il dato relativo alla resa però quello ecco grazie Luisa però a fianco abbiamo anche la densità di semina ecco quindi diciamo è un dato che va letto assieme no ok per cui a chi è interessato me lo chiede ve li mando forse una considerazione me la ricordo perché abbiamo capito che il nostro professore come dire è più prudente di noi mi ricordo che quest'anno quando ho raccolto la rucola aveva ci ha mandato un'email dicendo di tutti i campioni che abbiamo raccolto la vostra è la più bella allora dai nitrati non si vede ovviamente però quando un consumatore va ad acquistare la rucola cosa apprezza profumo consistenza aspetto colore ok diciamo qui io nella serra dell'omeodinamico entravo volentieri sorridendo come si diceva prima perché faceva piacere raccogliere quel prodotto diciamo in altri casi meno volentieri sempre il discorso della quantità la qualità e anche la qualità poi di chi deve essere il consumatore no bene qualche altra domanda se no le buffet in calza prego proprio sul fatto della salute i medici dicono bisogna mangiare almeno cinque volte frutta e verdura ma se noi mangiamo allora la frutta e la verdura normale tra virgolette quasi ci fa male ah no perché lei prima ha detto che i nitrati si collegano i nitrati si collegano a un qualcosa di particolare nello stomaco in particolari condizioni e diventano cancerogene ecco questo punto forse è da chiarire non ho capito lungi da me il tentativo di dirvi di mangiare poca frutta e verdura non vorrei assolutamente avervi dato questa impressione perché oltretutto diciamo il discorso è molto più complicato di quello che sembra in apparenza perché la possibilità di assimilare anche i nitrati presenti soprattutto nelle verdure come avete visto sono regolamentate dalle Unioni Europee soprattutto certi tipi di verdure la rucola è quella che ne contiene di più però dobbiamo fare un discorso anche di quantità di prodotto ovviamente se uno aggiunge un pugnetto di rucola che noi mettiamo sopra la pizza o un pugnetto che aggiungiamo alla insalata mista che mettiamo in tavola quanto contribuisce in peso potremmo fare un calcoletto sono 10-20 grammi come ordine di grandezza quindi il quantitativo complessivo di nitrati che assumiamo è eccetera eccetera in realtà l'assimilabilità del nitrato dipende da tantissimi altri fattori complessivi della nostra regime alimentare fra i quali anche la presenza di vitamina C maggiore la vitamina C che noi assumiamo e più facilmente riusciamo a limitare gli effetti dannosi del nitrato e questa è una cosa fantastica da un certo punto di vista perché la natura ha fatto e continua a fare bene la sua parte siamo noi che cerchiamo in tutti i modi di rovinare quello che la natura ha immaginato perché la rucola per esempio è vero che ha un livello fra i più elevati di nitrati fra le verdure da taglio ma è anche una delle verdure da taglio che è il livello più elevato di vitamina C e quindi saggiamente le due cose si compensano ci ha già pensato la natura noi possiamo continuare a metterla nella pizza e nell'insalata mista e in ogni caso gli effetti benefici perché non c'è solo la vitamina C ci sono molte altre vitamine a seconda del tipo di verdura molti oligo elementi che contribuiscono alla buona funzionalità del nostro organismo eccetera quindi non per niente ci suggeriscono di assumere frutta e verdura cinque volte al giorno e io sicuramente non voglio darvi l'impressione di aver detto una sola parola contro questa raccomandazione anzi quindi cinque volte al giorno va benissimo se abbiamo la possibilità di fare appunto un breve spuntino a metà mattina e a metà pomeriggio non a caso in molte scuole anche asili scuole elementari eccetera adesso stanno cominciando finalmente vorrei aggiungere con l'idea di eliminare tutte le merendine disgustose che i bambini tipicamente si portano dietro e fargli portare una mela o uno yogurt alla frutta eccetera eccetera ci sono dei motivi finalmente forse stiamo cominciando ad accoglierci neanche da noi bene io direi direi se qualcuno c'è una domanda che proprio se non soffre questa notte se non direi che il tempo è finito ringrazio tutti tutti per questo primo incontro che abbiamo fatto abbiamo in mente di rivederci in aprile abbiamo in mente parleremo di disinquinamento molto probabilmente parleremo di come disinquinare dei campi elettromagnetici come togliere i nitrati dei reflui industriali quindi altro che ecco e probabilmente con l'omeopatia come togliere il rumore stiamo facendo anche questi sperimenti qua quindi sono tutti i campi nuovi su cui stiamo lavorando probabilmente parleremo di questo a meno che non venga fuori qualche altra ricerca con dei risultati ancora più interessanti ma la nostra idea è di così un paio di volte all'anno presentare il lavoro che facciamo ringrazio ancora tutti siamo a disposizione è un primo incontro gli indirizzi li avete avete le cartelle siamo a disposizione per approfondire edificio rosso un magnifico buffet grazie a tutti quanti grazie a tutti Grazie.